La seconda vittoria per la nuova Italia, un po' più sofferta, importante però per capire su cosa questa nazionale dovrà migliorare. Protagonista Simone Giannelli come sempre in regia e ragazzini di valore come Daniele Lavia, tre migliori contro il Montenegro. Che ne pensi di questa Italia? Sono molto contento e fiducioso di far parte di questo gruppo, un gruppo giovane, un gruppo diverso, un gruppo a cui piace lavorare, che ha grande rispetto l'uno dell'altro e questo credo che sia la base, è un gruppo bello. Ed ora si alzerà l'asticella, la terza gara dell'Europeo ad Ostrava contro la Bulgaria. Sicuramente col Montenegro abbiamo avuto un po' più di difficoltà ma è stato appunto un test per noi, siamo stati bravi a riprenderci soprattutto nel terzo set ma anche nel secondo. Questo appunto è stato un test di fiducia, ci ha messo tanta consapevolezza nei propri mezzi, tanta fiducia in noi stessi, nel gruppo. È bello allenarsi e giocare con questo gruppo. Ci sarà la Bulgaria, ovviamente un gradino più in alto rispetto all'altro due, ovviamente squadre da grandissime squadre. Giocheranno fino alla morte perché appunto è un europeo, tutti vogliono vincere, tutti vogliono cercare di fare bene. Quanto può crescere questa Italia? Tantissimo, tantissimo perché più siamo giovani più abbiamo margini di miglioramento.